VOLTIAMO PAGINA Per questa seconda stagione, la seconda sotto la mia direzione, ci sono tantissime novità. Abbiamo in cartellone tantissimi spettacoli, all'incirca 28. Accanto alla nostra rassegna ne abbiamo praticamente affiancata altre due parallele. Una rassegna dal titolo serata d'autore e un'altra serata d'onore. Ecco, fermano quindi i preparativi. Si inizia proprio stasera fino al 19 novembre con Stefano Ammatucci che dirige Il Viaggio di Nabil. Come nasce questo lavoro? Allora, Il Viaggio di Nabil è un progetto appunto di Stefano che nasce praticamente dalla volontà di Stefano di raccontare l'immigrazione, però da un altro punto di vista, quella di un ragazzo, un ventenne, che parte e quindi si ritroverà su questo barcone, parte perché vuole ritrovare il suo grande amore, l'amore grande della sua vita e quindi su questo barcone ci saranno tantissime peripezie ma soprattutto si punta alle forti emozioni. Quindi lo spettacolo racconta la storia di Nabil, questo studente ventenne egiziano che sta intraprendendo proprio un viaggio su un barcone clandestino diretto verso la Sicilia e durante il viaggio sul barcone vi avrà delle emozioni, come tu ben dicevi, dei pericoli, degli incontri anche difficili da dimenticare. Un tema molto attuale, Giovanni. Un tema molto forte, molto attuale e è stato questo il motivo per cui abbiamo voluto iniziare, dare inizio alla nostra seconda stagione con una tematica molto forte, ma poi la cosa che a me è piaciuto tantissimo di Stefano è che da un adattamento di questo testo di Fabio Pisano ha reso protagonisti questi giovani attori, quindi largo spazio anche ai giovani, noi puntiamo tantissimo sui giovani attori. Sei il direttore artistico anche di questa seconda stagione del TIN, che criteri sono stati adottati per mettere su questo cartellone? Allora, noi quest'anno siamo veramente contenti perché abbiamo avuto, abbiamo lanciato il secondo bando, abbiamo avuto più di 300 adesioni a questo bando da tutta Italia. la scelta quale è stata? Era quella appunto di dare voce a giovani autori, giovani attori, ma affiancarli anche ai grandi della tradizione del teatro napoletano e non solo. Tant'è vero che io ho voluto fortemente con Roberta D'Agostino e con Marcello Radano, che mi danno una grande mano proprio nella portare avanti, no? La famiglia del teatro instabile Napoli, abbiamo voluto dare, sottolineare l'eccellenza e soprattutto la carriera di personaggi come Tina Femiano, come Sassà Trapanese, come Franco Iavarone, come Gino Curcione, Marco Francini, Insomma, questi grandi personaggi che hanno una carriera strepitosa e che continuano ad avere una carriera strepitosa. Franco Iavarone ha debuttato proprio l'altro giorno nella Passione di Cristo di Alessandro De Simone e abbiamo condiviso assieme questa bellissima esperienza, ma lui dall'alto dei suoi ottante passani è veramente grintoso, una recitazione ricca di smalto, quindi veramente siamo contenti di onorare questi grandi artisti con queste serate che, ripeto, saranno serate dove noi li festeggeremo a 360 gradi. Tanti gli spettacoli, come tu hai ben detto, e vorrei segnalare dal primo al 3 dicembre Mamma, piccole tragedie minimali, diretto da Antonella Morea, che tra l'altro è stata proprio qui nostra ospite, che racconta diverse tipologie della figura materna, una sola che incarna proprio il difficile compito di madre, mentre le altre sono mamme diverse, un po' gelide, prese un po' dal loro apparire. Cosa dobbiamo aspettarci da questa mese scena? Allora, lo spettacolo di Annibale Luccello è uno spettacolo che viene spesso messo in scena. Allora, la scelta su Rino Di Martino, con la regia appunto di Antonella Morea, è stata quella, pensa che la proposta di questo spettacolo ci sono arrivate all'incirca 7-8 proposte di mamme. Io ho voluto dare priorità all'interpretazione di Rino Di Martino, anche perché il suo spettacolo è uno spettacolo che ha una lunga storia. Lui tempo fa ha debuttato al Bellini, al Piccolo di Milano, quindi ci affidiamo molto alla bravura di Rino Di Martino che ogni volta si rinnova, anno dopo anno questo spettacolo lo riporta con una freschezza nuova e quindi noi siamo veramente onorati del fatto che lui abbia accettato di esibirsi sulle nostre tavole. E andiamo avanti perché poi dall'8 al 10 dicembre sarà la volta di Polveri Condominali di Franco Autiero, diretto da Tonino Di Ronza, con Gina Perna. Un altro show veramente imperdibile. Sì, un altro bel testo, un testo che in passato ha avuto pure un grande successo. Gina Perna è stata già un'amica del Teatro Instabile, con Michele Del Grosso negli anni precedenti e niente, è una garanzia, una garanzia perché il connubio Gina Perna-Tonino Di Ronza è veramente un connubio vincente a nostro avviso. Tante novità ma anche tanti ritorni, come Mater Camorra con la tua regia, ecco la vicenda di questa madre Courage che è ambientata nei vicoli di Napoli e nella provincia napoletana e la guerra dei 30 anni che si trasforma e lo scontro perenne tra i clan con un surplus di degrado, di animalità che questo comporta. Di bestialità è il termine che io preferisco. Questo è uno spettacolo, io l'ho voluto anche quest'anno perché festeggiamo i 20-21 anni della messa in scena, uno spettacolo che è stato candidato al premio Ubu nel 2014, uno spettacolo che abbiamo scritto io e Nicola Tirozzi da un'idea appunto di Michele Del Grosso. L'idea qual è? Ispirandoci a Madre Courage di Brecht abbiamo voluto praticamente tradurre il tutto, riportarlo alla guerra di Camorra dei nostri anni. Sia io che Nicola Tirozzi siamo figli degli anni Ottanta, periodo un pochino tormentato da un punto di vista proprio di guerre tra clan e via dicendo. L'idea è quella di dare voce a questi personaggi che attraverso lo zoomorfismo praticamente diventano animali ma da animali per volontà umana diventano bestie. Quindi la vera bestia non è l'animale ma è l'uomo che si cala nei panni proprio della bestia per la sua cattiveria e soprattutto per, diciamo, desiderio di fama, successo, soldi. Il tutto ad ogni costo. Previsto anche il format serate d'onore. Di che cosa si tratta? Chi vedremo in scena? Allora, come dicevo prima, le serate d'onore, serate d'onore o serate d'autore? Donore. Donore. Allora, le serate d'onore sono appunto queste serate dove festeggeremo questi grandi artisti tra cui appunto Franco Iavarone, Tina Femiano, Gino Curcione che ritornerà con la sua famosissima tombola proprio nel periodo natalizio. Avremo Sassà Trapanese con Maramè che sarà uno spettacolo la cui firma registica è di Gigi Savoia quindi veramente un'altra bellissima performance. E Marco Francini, bravissimo attore, cantante soprattutto, cantastorie che ci delizierà con brani editi e inediti anche di autori, di grandi cantanti come Domenico Modugno e via dicendo. Altro format invece che vi sta a cuore è serate d'autore. Come si sviluppa quest'anno? Le serate d'autore accanto alla nuova drammaturgia avevo desiderio di dare voce anche ai grandi della drammaturgia del passato e non solo del passato perché io ritengo che un teatro debba rivolgersi diciamo ad un pubblico giovane, meno giovane e quindi accontentare un po' tutto il pubblico che deve essere variegato, il pubblico di un teatro. Allora ecco che noi partiremo con Baricco, con il Novecento di Baricco che andrà in scena a dicembre poi continueremo con, ci sarà il periodo di aprile, il mese di aprile che sarà tutto dedicato a Shakespeare con la dodicesima notte di Shakespeare con la regia di Gianmarco Cesario avremo poi Raccontami Shakespeare di Andrea Cioffi e poi uno spettacolo Quarturo Muselli molto particolare, tutto in inglese, un amleto tutto in inglese quindi sicuramente sarà spero molto gradito ma non è solo questo, la nostra serata d'autore avremo anche Pasquale Ferro che è un giovane drammaturgo con il suo Agnes e Martirio che sarà tra le altre uno degli spettacoli che il teatro instabile in collaborazione con l'Accademia Vesuviana del Teatro di Cinema e della Talentum Prodaccio produrrà quindi quest'anno noi questa stagione così ricca veramente molto ricca molto ricca abbiamo voluto anche dare la possibilità ad attori giovani e meno giovani di fare dei casting e quindi produrre perché in collaborazione appunto con l'Accademia che forma tantissimi attori vogliamo dare anche la possibilità di far calcare il palcoscenico Ecco, il 28 dicembre è un altro spettacolo poi col collettivo artistico vesuviano che presenta Speranza dal racconto della Natività un'opera inedita che parte dall'aria di elaborazione in qualche modo in lingua napoletana del Vangelo di Luca quindi anche molto particolare quindi un intreccio di poesia e parole in musica Parole in musica, il collettivo è una bellissima realtà una realtà appunto del vesuviano che io ho scoperto, ho conosciuto da poco e siamo veramente contenti perché loro avranno la possibilità di raccontare il Natale a loro modo naturalmente attingendo anche da grandi classici e quindi festeggeremo il Natale anche con loro abbiamo voluto festeggiare un Natale in maniera un pochino diversa e come tu ben dicevi non mancherà il riferimento ai classici perché dal 19 aprile prenderai via poi questo trittico dedicato a Shakespeare insomma una stagione veramente per tutti i gusti e per tutte le esigenze quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati per il TEN? Allora gli obiettivi sono quelli come dicevo prima di rivolgerci ad un pubblico che possa essere un pubblico abbastanza eterogeneo e quindi vogliamo accontentare con delle proposte diverse ragazzi, giovani, meno giovani a breve ci rivolgeremo anche ai bambini questo ancora non è in cartellone ma è fuori cartellone Rivolgerete veramente tutte le età Sì, con spettacoli, teatro di figura Gianni, noi ti ringraziamo veramente per essere stato in nostra compagnia stamattina quindi ringraziamo Gianni Sallustro, direttore artistico del TEN e noi ci vediamo tra pochissimo dopo un piccolo break Grazie a tutti